L'anelito umano di infrangere in qualche modo i confini del proprio corpo, di conoscere in qualche modo qualcosa, oltre le limitazioni della nostra esistenza. Quante cose folli gli esseri umani stanno facendo sul pianeta? Quante difficoltà stanno comprando nella propria vita solo per avere un piccolo miglioramento di esperienza? Si sono persino sposati. Solo per migliorare la vita. Ogni essere umano, facendolo ognuno a suo modo, ognuno. Ognuno, quanti rischiano la volontà di correre, può variare da persona a persona, ma ognuno si sta mettendo in qualcosa. Non importa che ogni dottore sul pianeta dica a loro, se bevi il tuo fegato andrà, i tuoi che le droghe e altre cose li distruggeranno, faranno buchi nel loro cervello. Eppure, quanti milioni di persone lo fanno? Tutto questo è solo uno sforzo, uno sforzo non guidato, di infrangere in qualche modo le barriere di chi siamo. Quanti belli esseri umani, quanto talento, quanta competenza è morta presto su questo pianeta a causa di questo sforzo selvaggio, non guidato, fuorviato. Non c'era alcuna guida per dire loro, questo è il modo di infrangerlo. Lo sforzo, l'intenzione, è fantastico. Ma se i nostri sforzi non sono adeguatamente calibrati, i nostri sforzi potrebbero essere distruttivi. I nostri sforzi potrebbero significare autoannichilimento. Tutto il degrado ambientale che stai vedendo, stiamo bruciando il pianeta, esseri umani che vogliono essere qualcosa di più, tutto qui. Yoga. Yoga sbagliato. Non direi neanche yoga sbagliato. Approccio sbagliato allo yoga. Perché non funziona. Lo stai facendo in un modo che non funziona. Quindi è arrivato il momento. Perché quando pronunci la parola yoga, il fraintendimento nel mondo, oh ma io non mi posso girare, non mi posso torcire, non mi posso piegare, di certo non mi posso covacciare. Quindi ecco perché vogliamo proporre 112 variazioni. Scegli. Coloro che non si possono piegare, li faremo torcere. Coloro che non si possono torcere, li faremo piegare all'indietro. coloro che non si possono covacciare, li faremo stare a testa in giù. Coloro che non possono fare nessuna di queste cose, abbiamo qualcos'altro per loro. Per ogni tipo, per ogni creatura, un certo yoga. Per ciascuno un metodo. L'arrivo di Adiyogi, non voglio che questa sia solo una statua. Voglio che diventi viva. Quindi il processo è già attivo, la consacrazione. Spero che il mio corpo regga. Tutti voi siete qui. Lo faremo accadere. Il Linga Yogeshwar riverbererà. Il viso di Adiyogi. Penso che ci abbiamo messo più di due anni e un quarto, due anni e mezzo per progettare il viso. Ma i nostri team lo hanno eretto in otto mesi. È un'impresa incredibile in termini di tempo e di ingegneria. È unica. Dalle piccole ricerche che abbiamo fatto, non c'è un'altra statua che sia stata costruita con questo metodo. Abbiamo fatto di una scultura un'opera di ingegneria. Perché è questo in cui siamo bravi. Ingegneria interiore, sai. Quindi, questo non riguarda una statua. Non riguarda un grande evento unico. Questo è un movimento. Noi è già attivo, ma lanceremo un mega movimento in tutto il mondo nei prossimi anni per far sì che ognuno abbia un processo logicamente corretto e scientificamente verificabile per il proprio benessere interiore. È un'impresa. È un'impresa. È un'impresa. Grazie a tutti.